Maledizione ragazzi, ho appena attraversato la strada e buttando l'occhio dall'altra parte ho scoperto che non è questo il museo, era nel lato in cui già mi trovavo, mi toccherà di attraversare nuovamente la strada, ero convinto di essere arrivato nell'ultimo muro, non è così, e spero di farcela senza rimanere schiacciato sotto qualche ruota e ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!